E da dove vogliamo partire? Allora chi è che vuol fare? Prof, fai Silvia Vada, hai il pagellone, hai il pagellone, non la posso fare, fai Silvia Vada, ah no non so come farebbe Silvia Vada, inizierebbe ad alzarsi, metterebbe una gamba di sopra, non sarei assolutamente, ce l'hai il pagellone? Ah non so, devo fare il pagellone di Silvia, ma dobbiamo partire da lì? No ma io il 10 non lo leggo, non li posso leggere, no 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 no, non li posso leggere, no no no, leggi, leggi, ti ha dato l'incarico assolutamente di leggere sia il 10 che il 4, non so bene se ha dato un 4 oppure due 2, ma di fatto non io sto capendo, andiamo a vedere dai, stacchetto! Ma dunque, ambasciatore non porta pena, qua Silvia ovviamente autoreferenziale si dà 10 e dice 10 a me e a tutti quelli che come me domani sera ti feranno Galatasaray con rinnovato entusiasmo, auguro unghie nere emanate in faccia a tutti. E questo è il 10 che vuole proporre, su questo il 10 me lo prendo anch'io allora perché insomma non credo che tra una squadra turca e una squadra che non si sa di che paese sia, scusami almeno il Galatasaray so che è turco e faccio il tifo per questo, gli altri non so da dove vengono, quindi prima di si fare. E poi abbiamo il 2, allora qui il 2 Silvia lo dà alla curva maratona, dice sbiadita, senza fantasia, l'unica nota positiva all'immagine del nostro Joe, a dimostrazione che il Toro è passione fino all'ultimo respiro. Silvia dice mi auguro che i troppi anni vissuti con i vari pesaresi, auguro, pellicori non abbiano lasciato più del dovuto segni nei nostri cuori oltre che in classifica e quindi Toro alza le corna. Posso dirle una cosa proprio brutta brutta guardando questa foto? La devo dire? Eh sì c'è un Toro vesciato, ma come lo vesciato venendo giù ho detto abbiamo perso, prima di iniziare la partita ho detto abbiamo perso e lì è già sdraiato sto Toro. Che brutta, che brutta questa foto, mamma mia. E comunque c'era un altro 2, perché poi dicono che ce l'ho io col mister e Silvia vada, dice quella è l'immagine del mister e anche già contrito, si è preso 2, dice Ventura con quella tutta addosso sembri un poveraccio, Silvia vada, sempre Silvia, sì Mediaset. Con quanto ancora dovremmo sopportare Masiello? Questo dice. Punto. E' questa. Beh insomma ne ha tirate fuori già abbastanza direi Silvia.